... Una nota azienda di recupero rifiuti di Pagani al centro di un traffico illecito di rifiuti in Campania, Calabria e Veneto è quanto emesso dall'operazione Eco Balle d'Argento scattata alle prime luci dell'alba e che ha visto in prima linea i carabinieri del nucleo ambientale coordinati dalla procura antimafia di Salerno i rifiuti speciali in plastica e lo scarto della lavorazione di 105 industrie campane sono stati smaltiti illegalmente attraverso un sistema che ruotava intorno all'azienda paganese che gestiva un impianto di recupero rifiuti collegato ad una società di intermediazione e trasporto indagate 14 persone, 5 di queste ai vertici del sistema sequestrati uno stabilimento per lo stoccaggio dei rifiuti, 5 autocardi e 430 mila euro Gli inquirenti sono riusciti ad accertare attraverso verifiche documentali incrociate servizi di osservazione e perquisizione di intercettazioni telefoniche lo smaltimento illegale di 2.600 tonnellate di rifiuti presso siti di stoccaggio in Campania, Calabria e Veneto principalmente imballaggi plastici di scarto delle industrie conciare e sacchi argentati di industrie conserviere Le indagini sono state avviate a seguito di un'attività di sorvolo dei militari del NOE che avevano documentato l'abbandono di circa 30 tonnellate di rifiuti plastici in un terreno in località Spineta del comune di Battipaglia Le indagini hanno inoltre consentito di individuare e sequestrare alla mezza terme un capannone di circa 1000 metri quadri di colmo di rifiuti provenienti dalle attività di traffico illecito Tra i 14 indagati ci sono responsabili e dipendenti della società di recupero, trasporto ed intermediazione di rifiuti coinvolte anche 7 società che gestiscono impianti di rifiuti nelle province di Salerno, Napoli, Caserta, Verona e Catanzaro I 5 principali indagati non potranno esercitare l'attività di impresa nel settore dei rifiuti per un anno